Ciao ragazze e ben ritrovati sul canale Beauty Day. In questo video vi propongo un make up ed una facile acconciatura pensati per una cerimonia da giorno, estiva e in stile romantico. Come primo step applico un buon primer occhi che mi garantisca una buona durata del mio trucco. Creo una struttura in pasta con la matita Pupart Smokey Pencil 001 di Pupa Milano, la applico sulla parte esterna del mio occhio e la sfumo accuratamente. Con l'ombretto in stick Made to last 006 Pupa creo una specie di mezzaluna leggermente al di sopra della mia piega dell'occhio e sfumo il prodotto abbastanza in fretta perché tende ad asciugarsi presto. Utilizzo l'ombretto opaco del Color Sphere 208 di Kiko per ammorbidire la sfumatura nella piega dell'occhio. Adesso sulla parte più esterna della mia palpebra mobile uso questo bellissimo viola dal Color Sphere 210 sempre di Kiko Milano. Sulla restante parte di palpebra mobile applico il Color Glicine dello stesso Duo e lo applico bagnato per intensificare il colore ed il riflesso. Ridefinisco e scurisco la parte più esterna del mio trucco occhi con questo marrone medio del Color Sphere 207. Nell'angolo interno dell'occhio applico questo ombretto argento dal Color Sphere 213 e lo sovrappongo anche sul glicine applicato precedentemente. Applico l'eyeliner e questo è il Professional Liner Vamp di Pupa. All'interno dell'occhio applico l'ombretto in stick Made to Last 003 di Pupa Milano. Concludo il trucco occhi con delle ciglia finte e il mascara Vamp di Pupa. Come illuminante uso l'illuminante flash di Mulac Cosmetics, un bellissimo illuminante bianco che dona davvero tanta tanta luminosità e lo applico sugli zigomi, sul dorso del naso e sull'arco di cupido. Come blush uso il Golden Touch Highlighter 001 della collezione Coral Island di Pupa Milano. Sulle labbra applico questo nuovo rossetto di Pupa. Questo qui è lo 012 e fa parte della nuova linea I'm Pupa Matte Lip Fluid. Grazie a tutti. ed infine impreziosisco il mio trucco labbra con questo Crystal Glaze Gloss che faceva parte della vecchia collezione di MAC Giambattista Valli. Ed è un gloss davvero molto molto particolare perché al suo interno sembra avere questi bellissimi riflessi oleografici e che donano un riflesso particolare su ogni rossetto. Il trucco è completo ed è arrivato il momento di pensare ai capelli. Io ho già realizzato delle onde sui miei capelli con un ferro. con un pettine in legno raccolgo una piccola parte dei miei capelli in una coda lasciando dei ciuffi sul davanti. Adesso con le dita mi creo un po' di spazio, una sorta di passaggio al di sopra dell'elastico e faccio passare questa coda in questa specie di allargatura creando appunto questa specie di codina girata e la impreziosisco con un fermaglio luminoso. Bene, ora che trucco e parrucco sono completati è ora di indossare un bel vestito floreale e romantico. Spero che questa mia proposta vi sia stata utile in qualche modo e che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo video e io vi mando un bacione grande grande. Ciao ragazze! Ciao! Ciao!